Music, news, sport, every day for you on the web, lecochannel.it, the blue light, blue radio. Filippo Boscagli, consigliere comunale, sì, ma soprattutto grande tifoso della Calcio Leco 1912, non poteva mancare l'appuntamento pre-vacanza a Rega Monticeppi, nuovo impianto, anche un esempio di pubblico e privato, se vogliamo, una certa cooperazione, a livello di Calcio Leco 1912 ha operato sul campo e con l'associazione Elezioni al Campo il progetto volontariato migranti è stato messo a mano a ciò che circonda il nuovo fondo, una bella opera decisamente. Sì, è stato veramente un bel mix tra attività volontaria, attività del privato, nel caso la Calcio Leco, e attività del comune che ha sposato subito il progetto. Per chi come noi ama questo luogo è un momento bello, un momento bello perché dopo anni in cui veniamo a fare sopralluoghi, vediamo quello che va e che non va, finalmente ritroviamo un po' come dieci anni fa, dopo la cavalcata dalla C2 alla C1, vediamo lavori di bellezza dell'impianto che noi tanto amiamo, in cui siamo tanti di noi, sono cresciuti, abbiamo tantissimi ricordi, soprattutto della curva che sta qui alle nostre spalle, sia per il panorama, sia per l'architettura, sia per la storia di quello che abbiamo vissuto su questo campo. Per cui rivedere una curva blu celeste come questa, un campo veramente bello, come è stato rifatto, secondo me è una festa non solo per i tifosi dell'Eco, ma anche per tutta la città. Per la prima volta i settori vengono colorati proprio con i colori sociali, a tutti gli effetti con le bande verticali, la precedente colorazione ovviamente era in predominanza azzurra con i segnaposti di colore invece blu, invece adesso vediamo proprio blu celeste dominante. Ricordo che anche questa era una cosa appaventata dieci anni fa da parte della tifosieria, ma perché non l'abbiamo fatto a bande verticali? Sembra quasi una piscina francamente, però ovviamente essendo questi i nostri colori, molto molto impattante. Decisamente penso che sarà anche una bella immagine vista dall'alto, perché a questo punto vista anche da un elicottero, da un drone o dalla montagna, o dal San Martino, alle nostre spalle, l'immagine di una Lecco blu celeste di uno stadio che dice solo calcio Lecco, questa secondo me è un'immagine, questa sì per i tifosi, assolutamente fondamentale. E anche i lavori di riqualificazione di questi colori sono sicuramente una bella immagine, che lasciano anche ben sperare, anche per l'investimento fatto, per quella che sarà la stagione futura e per le prossime stagioni. Da tifoso come vedi questa stagione? La speranza è che gli investimenti e le speranze si concretizzino davvero in una stagione di successo e in una futura stagione che porti veramente la squadra in un contesto che merita questo stadio, perché questo stadio, adesso guardiamolo, non solo non è da D, ma presumibilmente è uno stadio da livelli alti della serie di Lega Pro, per cui questa squadra deve puntare a fare campionati di professionismo di livello alto, perché è questo che merita, è questo che merita questo stadio, è questo che merita questa città. Grazie Filippo, e anche buone vacanze, colgo l'occasione. Altrettanto e buone vacanze a tutti, perché credo che tutti, anche quelli che hanno lavorato per riqualificare questo stadio, se le meritano. musica, news, sport, every day for you on the web, lecochannel.it, the blue light, blue radio.